Ciao a tutti e bentornati su Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con l'Hamilton Wonders. Siamo in finale, siamo in finale contro l'Easter Suburbs che incredibilmente ha battuto, ha battuto l'Oklund City. Quindi 3-1 loro, 2-0 noi, 2-0 noi, questa è la partita chiave assolutamente, 2-0 noi e, 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 buffonate poco professionali però. E adesso ci andremo a giocare la finale. Come ti fanno sentire le accuse di scarsa professionalità? E già tanto sono considerando chi sta parlando, quanto siamo gentili in queste cose, porto cane. La partita sarà tra una settimana e questo mi sembra ottimo per darci tempo di recuperare. È una partita di finale di campionato, non l'avrei mai, mai, mai detto. Incredibilmente non contro l'Oklund City, non contro l'Oklund City. Allora, oggi si parla di tattica, perché è venerdì. Prima di arrivare alla finale diamo due notizie di tattica. C'è in realtà poco da parlare in questo momento di tattica. Siamo ripassati al 4-3-3 perché, come vi ricordate, il 4-2-3-1 che giocavamo inizialmente con Akita, che giocava dietro le punte e con solo due centrocampisti, non ci dava copertura ed era un disastro. La squadra ha iniziato a girare decisamente meglio, ma il salto di qualità, soprattutto in attacco, soprattutto just, c'è stato quando siamo passati a portare pallone in area e a cambiarlo di ruolo come non più una centravanti, ma come un uomo d'area in attacco. E' una differenza sostanziale. Sostanzialmente questa formazione, questo 4-3-3, era nato per l'Italia, come vi ho detto molte volte, e quindi serviva per portare al tiro soprattutto le ali durante le azioni, mentre il centravanti dovrebbe dovuto liberare gli spazi appunto per il loro inserimento. Qui non funziona, perché è vero che Aiza ha un buon tiro, però sia Aiza che Gondue sono molto più bravi nel crossare. E soprattutto Just è un giocatore fortissimo, ma è fortissimo come attaccante. Non è in grado di fare la torre per le ali o per l'accorrenza dei centrocampisti, che non hanno un brutto tiro. Pratt nell'ultima partita ha fatto un gol della Madonna, però non è il loro ruolo. Non sono... non è Vidal, per intenderci, non è Florenzi, che va bene, non è un centrocampista, ma gioco in qualunque ruolo, ma va bene. Sono giocatori con un buon tiro, ma che non fanno 5-10 gol all'anno. Quindi, questa formazione è completamente diversa. Secondo me è leggermente sbilanciata, perché alla fine tendiamo a giocare molto su Just, però è una formazione che sta funzionando. Sta funzionando anche perché Just sta facendo delle prestazioni spettacolari. Semplicemente spettacolari. Posto in arrivo. Oh, Dio, Dio, Dio. McIntyre. Abbiamo un grosso problema, che se dovessimo anche giocare alle prossime partite, rischiamo di vederci la squadra smontata. La squadra smontata. Tra l'altro, noi teoricamente dovremmo andare a giocare la Champions. Toglietemi solo una curiosità, adesso me la voglio fare. Oceania. Competizioni per club, UFC, Champions League. Ah, la Sanja giocando, tra l'altro. Sanja giocando, Oakland City, Team Wellington. Si giocherà il 13 aprile 2019. Ah, che fico. Quindi, che caspita è successo? È successo un pasticcio. Takuain è arrivato a giocarlo, ha fatto addirittura 4 punti. Quindi noi dovremmo giocarla dopo il prossimo campionato. Eh. Peccato che non credo giocheremo il prossimo campionato. Qua fallirà tutto, penso. Ah, giocatore ad alto potenziale. Buona affluenza, grande partita al Porich Stadium. Un nuovo record di affluenza. Ci danno... No, danno favoriti loro, danno favoriti loro. Nell'ultima partita avete giocato molto bene, ci dà fiducia. Giocherete tra le mura amiche, ci toglie un sacco di preoccupazioni. E un passo dalla qualificazione, beh, basterebbe una vittoria. Sono molto fiducioso. Tra te e Ricky Robert. Abbiamo un'ottima intesa e ottimo rispetto reciproco. Mi sicuro hanno grandi aspettative i nostri tifosi. Posso capire come si sentano i tifosi e anch'io provo. Una grande citazione. Andremo in campo con un approccio propositivo. Non penso di stravolgere la squadra, assolutamente. Vi assicuro che non è vero, siamo concentrati sui obiettivi da raggiungere. È stato molto importante l'atteggiamento e lo spogliatoio, questo mi sembra sicuro. Una perita di fiducia. Non credo che una sconfitta possa danneggiare la fiducia. Ragazzi, siamo in finale. Ci davano ultimi, porco cane. La preparazione è stata eccellente e siamo fiduciosi di ottenere un grande risultato. Cacchio, cacchio, cacchio. Kudo sente che la fiducia è tanta. Eh, certo che sento che la fiducia è tanta. Però, porco cane. Il mio primo acquisto è stato un disastro, me ne rendo solo conto adesso. Che non ha mai giocato, peraltro. Eastern Suburbs, nettamente favoriti. Noi abbiamo per ora, le ultime quattro le abbiamo vinte tutti. In effetti abbiamo vinte le ultime tre, che per carità erano molto facili in campionato. La prima e quella semifinale, loro ne hanno vinte due. La sconfitta, questa sconfitta. No, no. Non c'è più la nostra ultima partita insieme. Va bene. Luca è riserva, conferma formazione. E, ah no, abbiamo sette disponibili addirittura. Allora buttiamo dentro Atwood. Buttiamo dentro, boh, Brent Fisher. Ma sì, che tanto si ritira. Ragazzi! Che Dio ce la mandi buona! Si gioca addirittura di sera, addirittura. Allora giocano con un 4-4-1-1. Mamma mia! Continuiamo così. Ma è la finale, che continuiamo per quanto tempo. Ci meritiamo la qualificazione. Ma è una vittoria, non è una qualificazione. Allora queste partite richiedono prestazioni di alto livello. E in pieno, cioè in pieno no lo stadio. Però di gente ce n'è, insomma. Ah, Messenger! Il nostro idolo dell'ultima partita. Pjok, Ekpo, TQ. Madonna, una finale. Chiker, Pok, Ekpo, Ekpo. Messenger, Chiker, Chiker, Chiker. McIntyre, ribattuto. Margez, possiamo ripartire. Debenham. Abbiamo fatto 4-0 all'ultimo. Niente con 4-0, ma meno vince la Gondwe. Johnson, Aiza la mette giù. Just si potrebbe girare. Debenham, gol! Dopo tre minuti! Ci pensa Debenham. Ho appena detto che i nostri centrocampisti non fanno tanti gol. E ci pensa Debenham a portarci in vantaggio. Johnson la spizzica. Aiza. Just per Debenham. Debenham che batte. Batte a rete. 1-0 dopo 3 minuti. Oddio mio. Ma siamo tanto ben messi fisicamente però, eh. Neanche loro. Sono tutti stanchi probabilmente. Show. Debenham. Kurimata. Kurimata. Largo per Cichete. Troppo lungo. Ci pensa Oliver. Non venite di qua. Siamo noi ad attaccare. Oliver. Pratt. O'Brien. Lancio lungo per Aiza. Aiza ribalta. Just. Fuori. Gli stiamo facendo una grande paura a questi. Una grande, grande, grande paura. Non so se ce ne fanno sei. 12-1. Dodicesimo volevo dire. Che 12-1. Andiamo a cercare di mantenere il possesso. Sedicesimo. Nil. Ekpo. 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 McIntyre. Mohamed. Ekpo. Tecugol. 1-1. Non lo meritavamo sto gol. Porto cane. Che è rimbalzata stranissima. No. Credo sia stato semplicemente un passaggio molto rapido. Ekpo. Questo. Ah. Se l'è perso. Tu chi sei? Shaw. Tecugol. E Cichella sono dovuto spingere in rete. Tra Shaw e credo Johnson hanno fatto il pasticcio. O'Brien. Cross dentro. Mohamed di testa. Vola Robic. Vola Robic. O'Brien. Largo per Shaw. Cross. Gondue potrebbe ribattere. No. La butta fuori. Margez. Debenam. O'Brien. O'Brien. Rodic la blocca. Rodic la blocca. Ha fatto un tiro. Un gol. Porco cane. T-treesimo. T-treesimo. Probabilmente è la mancanza di recupero che ha fatto. Già se non ha fatto il gol ma ha fatto Lazio. Quindi per ora stiamo giocando bene. 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 Bravi. Dove sono due giocatori non in forma tra le riserve. Noi abbiamo Sproguzze e Maciucca che in effetti non lo sono molto. O'Brien. Madonna. Su punizione. Su punizione. Perché ha tirato ma non importa. Ve l'ha anzeccata una in tutto il campionato. E la mette dentro in finale. Madonna. Su punizione. Ma io lo dico più spesso che i miei centrocampisti non segnano. Lo dico tutte le volte che i miei centrocampisti non segnano. T-Q. Mamma mia. Pic. Ekpo. Ekpo. T-Q. T-Q. Chiker. Chiker. Mohamed è bravissimo. Mohamed è bravissimo. Come l'ha chiuso. Oliver. Ripartiamo. Lancio lunghissimo. Ancora loro. No. Gondue la ruba. Gondue. Largo per Aiza. C'è Giast in mezzo. Giast in mezzo. Giast in mezzo. Gol. Aiza. E ci pensa Aiza. Due gol rapidissimi. E al trentesimo siamo 3-1. 3-1. In due minuti passiamo dall'1-1 al 3-1. Gondue ruba palla. Vedi Aiza. Aiza potrebbe servire Giast che si è smarcato benissimo ma il portiere che non l'ha chiuso. Il portiere che non l'ha chiuso. Mamma mia. Che prestazione che stiamo tirando fuori. Che prestazione. 3-1. 3-1. Mamma mia. Ragazzi andiamocela a prendere questa coppa. Pratt ha fatto l'euro goal in finale. Debenham O'Brien. Adesso segna anche Aiza. Che ha fatto un gol sia in semifinale che in finale. Show. Debenham. O'Brien. Pratt. Largo per Show. Show. La ributta dentro. Gondue. Traversa. Giast non riesce a metterla dentro per il 4-1 che avrebbe tagliato del tutto. Le gambe all'Eastern Suburbs. Gondue. Ma ci siamo solo noi in questo momento. Pratt. E vabbè Pratt. Ne hai fatto uno di euro goal l'altra volta. Ma non facciamo gli... Un gol per ogni centrocampista sarebbe stato spettacolare. Dopo quello che avevo detto. Non lo dico più. Te lo dico sempre più che altro. Mamma mia. 3-1. Dai. Ci manca il gol di Giast. Che però l'ha fatto solo l'assist. Uff. Gondue un assist. Pratt un assist. Eh sì Pratt. Giast un assist. Spogliatoio. Parla la squadra. Appassionato. Sono molto felice per come stanno andando le cose. Però ragazzi. 45 minuti in cui non dobbiamo rovinare questo miracolo che abbiamo fatto fino adesso. Johnson. O'Brien. Pallo. Va bene così. E intanto il tempo passa. Quarantasettesimo. Quarantasettesimo. Pratt ammonito. Ekpo. Nil. Piok. Uh quella deviazione quanto mi ha fatto cagare. Perché l'avrebbero veramente riaperta a questo punto la partita. Quarantanovesimo. Cinquantesimo. Cazzo Pratt infortunato. Però non sa niente di grave. Vabbè è vero che non abbiamo più partite da giocare. Però. Conferma sostituzione. Pratt. Beh va bene perché magari non ce lo prendi e compra nessuno. Che cazzo ha fatto? Voleva passare la Giast? Chiker. 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 Ekpo. T-E-Q. Chiker. 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 Johnson la chiude. O'Brien. O'Brien. Graham. O'Brien. Lunghissimo per Jast. Jast. Si invola. Jast. 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 E sono quattro. E sono quattro. E sono quattro. Mancava la sua firma. Mancava la firma del Bomber. Bomber Jast la chiude. O'Brien un lancio di duemila chilometri. Se la giusta se la porta avanti. E giustizia è un portiere che è stato tutto forché imbattibile in questa partita. Dicevo cosa si è fatto Pratt? Non riesco a vederlo. Vabbè. Messenger. Imrai. Teiku. Oliver la chiude. Oliver la chiude. Ma dove volete andare? Dove volete andare? Quattro a uno. Avete fatto il miracolo di batterlo Clancity. Ma non pensate altro. O'Brien. Debenam. Debenam. Ekpo. Purimata. Niel. 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 Mohamed. Ciccare. Ciccare. Ma non ce lo fanno un altro gol. Potenziale infortunio al capo. Vabbè. Speriamo non sia una roba lunga. Margez. Debenam. Ciccare. Ekpo. 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 Oliver la prende. Oliver la prende. Sessantaduesimo. No. Per ora nessun cambio. Poi faremo entrare qualcuno di sicuro. Magari Fischer per fargli farla passare la finale. Per ora aspettiamo. Magari poi tolgo Isa. Boh. Vediamo un attimino chi è più stanco. Luke. Vogliono un difendimento. Ma i difenditori adesso vanno bene. Debenam. Non possiamo cambiarlo perché non abbiamo più centrocampisi. Sì. C'è Atwood ma. Non mi sembra il caso di farlo entrare. Ma sì dai. Finché siamo 4 a 1. Che cacchia me ne frega dei cambi. Loro non ne hanno più. Loro sono messi molto peggio di noi. Non ne hanno veramente più. Facciamo far passare la finale a Fischer. Ottantesimo. Passare la finale per Fischer. Ma sì. Conferma sostituzione. Sarà contento di strezzare in titolo giocare. Completamente fuori condizione peraltro. Non giocherà una partita da mille anni. Ottantasettesimo. Tattiche. Mettiamo Atwood al posto di O'Brien. Ma sì dai. Va bene. Non è proprio il suo ruolo. Ma va bene così. Sì in realtà forse avrei dovuto metterlo al posto di Macciuca. Ma non importa ormai è finita. Novantesimo. Novantunesimo. Novantaduesimo. Debenham. Siamo ancora in attacco. Johnson di testa. Atwood. E minchia se la metteva dentro Atwood. Cosa succedeva. Novantaduesimo e 30 secondi. Un minuto e mezzo alla fine. Un minuto e mezzo alla fine. Fai scorrere sti secondi. Porco cane. Cos'è in tempo reale. Novantatresimo. Novantaquattresimo. Liberiamo. Imrai. Fuori. Fischia. Fischia. Pronti. Finita. 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 Siamo campioni. Mamma mia. Un miracolo. Un miracolo. Un miracolo sportivo. Siamo campioni. Due campionati di fila vitti. Contro squadra assolutamente. Mamma mia. Siamo campioni. Siamo campioni. Siamo campioni. Siamo campioni. Siamo campioni di un campionato vero. Non di un campionato della minchia come quella dell'altra volta. Cioè sì insomma un po' meglio. Ah. Appassionato. Una gran bella vittoria. Sono molto felice del risultato e di come avete giocato. Siamo campioni. Siamo campioni. Siamo campioni. Cos'è la Continental Qualification? Perché dobbiamo ancora giocare contro l'Ocrane City? Siamo campioni. Oh Dio. Abbiamo ricevuto 80.000 euro. Va bene. Non importa. Oh. Le Hamilton Wonders. Portare certo che andare indietro da alcune grandi vittorie. La comoda 4-0 miliardi di Easter Sables che abbiamo fatto 4-1 in finale. 4-1 in finale. 4-1 in finale. Papapero. Papapapà. La loro vittoria 2-1 contro Saturn e 2-1 contro Lockeland City. che è stata una vittoria incredibile se vi ricordate. Nessuno avrebbe detto. Madonna. Abbiamo vinto 4-1. 4-1. Xavier Pratt infortunato per 2-3 settimane. Ma pazienza. Riceviamo 80.000 euro per la vittoria contro l'Eastern Suburbs nella finale dell'ASB Championship. Kudo tra i migliori allenatori in Oceania. Uno dei migliori allenatori che abbiano allenato in Oceania. Vediamo un attimino adesso come la reputazione è salita finalmente. sta per iniziare la conferenza stampa. Ne sono entusiasta. Mamma mia. Pensi di restare l'anno prossimo? Tutti vogliono e speriamo di trovare presto una soluzione. Allungato da 6 c'è risultati positivi per l'Emmington Wonders. Mi fa piacere il risultato. È sempre bello che le cose vadano bene. La battaglia per il titolo è la storia acquisita da tempo. Dato che la tua squadra comandava con un... Ma che cazzo dice? Conosciamo tutti la situazione. Dopo aver vinto vorranno ancora di più o avvertirei una pressione ancora maggiore no quel tipo di pressione mi esalta o la fortuna di giocare con giocatori fantastici non in reparto. Ha trasformato il Porrit Stadium in una sorta di fortezza di recente. È vitale fare tanti punti in squadra. Xavier Pratt è stato infortunato. Sono disgustato. Non mi piace. Una cosa è essere terminati. Hanno lasciato il segno su Xavier. Va bene. Non c'è nulla da fare se rientra nel regolamento. Chris O'Brien ha vinto un premio di migliori in campo che è stato assolutamente stupefacente quest'oggi. Tifosi in estasi. Eh beh vorrei ben vedere. Ci davano milla a uno. Cioè vorrei sapere se qualcuno avesse mai scommesso su di noi quanti soldi si faceva porco cane. Quanti soldi si faceva. Madonna. Fiducia al massimo. Eh lo credo insomma. Abbiamo vinto questo trofeo incredibile. Xavier Pratt ci loda. Ci loda. Johnson vicino all'aumento salariale. Kudo porta volti nuovi. Eh vabbè. Il fuoriclasse O'Brien in stato di grazia. Pagamento dei premi. Oh ragazzi. 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 Abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo fatto un miracolo. Oggi. Chiudiamo qui. Con. Un miracolo. Non so quando giocheremo questa minchia di partita. Siamo arrivati a secondi. Nel senso che andremo a giocare ovviamente. Solo i vincitori più da prima del campionato. Andrà per la. Per la coppa. Non ce ne frega. Un cacchio. Non ce ne frega. Un cacchio. Siamo campioni in carica. Abbiamo vinto un campionato. Che nessuno avrebbe mai detto. Che avremmo potuto vincere. Per oggi. Si chiude qui. Domani. Vedremo cosa succede. A presto. Ciao ciao. Il sorteggio. Ah. Ah. Se il video vi è piaciuto. Lasciate un mi piace. Altrimenti. Iscrivetevi. Per seguire. Questa serie. Cioè. Non altrimenti. Se il video vi è piaciuto. Cazzo. Iscrivetevi a fare. Se il video non vi è piaciuto. Vabbè. Iscrivetevi. Ciao ciao. Ciao ciao.